Eccoci qua, eccoci qui ragazzi, ci siamo però serve la musica epica, quindi, epic, voglio qualcosa di più, ok, allora, ci siamo ragazzi, si si è già così, Con chi fa la sub, muore per primo, oh, Fiorla, guarda un po', Fiorla, mi dispiace, eh, è andata così, Fiorla, 40 mesi, dai, è così, dai che tra poco arriva un numero dei miei anni, eh, Fiorla, ne passa prima di arrivare a 70, la 6.000 per la resa buona, allora, raga, chi scommette che muoio per primo o meno? Tanto ormai, chi è questa lagna di sottofondo? Io voglio una musica, voglio quella, dov'è? La Epic Massive Hybrid Action Trailer Allora Perfetto Ah ragazzuoli, intanto Matti, grazie per i due mesi Allora, ci siamo Ci siamo Siamo pronti Come sempre Benvenuti A Younger Games Della ciurma Gentilmente offerti da El Flegatore E Silver Matt 22 Dove 22 ragazzi Non è l'età Quindi Iniziamo subito Eccoci Perché c'è questo quadretto bianco qui, mi sta urtando il sistema nervoso Allora Come sempre, nella giornata di ieri, come le settimane scorso, 24 Persone belle Persone belle questa volta nel gruppo di regrazione dei sub Sono stati scelti per combattere in un'arena senza esclusione di colpi In palio ci sta la gloria Ma soprattutto un VIP Chi si giudicherà il dodicesimo ingresso alla finale? Ragazzi Queste qui sono le nostre Questi qui sono i nostri distretti Anzi, i vostri distretti Abbiamo Entity Con Kraken Abbiamo NASA Con Strider Nio male con Feddo Nicola con Buco Ente con Ciclittle Papadiego con Anna Matti con Meliodas Francesco con Teo Emeraldo Swedish Con Lellos Abbiamo vinto Abbiamo Pia Con Silver Piripiri Con Rob E Anna Con Ele Olè Come si può entrare nei Younger Games Ed entrare nel gruppo Telegram E stare attento Perché ogni martedì Giovedì E sabato C'è un messaggio a cui reactare Se tu ci reagisci E sei entro i primi 24 Partecivi Non penso di essere a Milano Comics Qualsiasi fiera che andrò a fare Ragazzi Ve la faccio sapere sul Mio profilo Instagram Yes Detto questo Cucciolini E' arrivato il momento E' arrivato il grande momento Si inizia Qui troviamo I vinciti delle altre edizioni Di questa stagione Loro vengono Rinominati come I Piani Alti Abbiamo appunto Caldo Crispy Silver Lori Luigi Steph La mia ragazza Addirittura Con 6 kill C'è in più o meno Seconda posizione Diciamo No in seconda posizione C'è la mia ragazza Con 6 kill Non va bene Non va bene Questa cosa non va bene Ragazzi Caricatore Grazie mille Per i 5 Andiamo avanti Solo uno O una Vincerà Siamo tutti Intrepidanti Attesi Del suono del corno E bla 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 Insomma Il suono del messaggio Copia e incolla Il suono del corno Squarce il silenzio Di tranquilla Giornale di sole C'è chi scappa C'è chi prende provviste Della cornucopia C'è chi muore Da oggi però Cambia tutto Infatti Grazie a Silver Oh Abbiamo una lore Molto interessante Scopri infatti Come inizia la storia L'inizio Si prospetta Un po' Movimentato Tutti fuggono Tranne Silver E Pirimiri Che si mettono A far saltare in aria Via Brombeis A Napoli Via Brombeis Abbiamo dei combattimenti All'ultimo sangue Dove Rob E Matti Hanno la meglio Su Kraken E il Fed E si mettono A ballare Sui loro Cadaveri Azz Non vedo per ora Il mio nome Ragazzi Sto godendo Non sono morto Il primo giorno Anna Sembra dominare La lotta La cornucopia Le scappa L'arma Della mano E Nicola Ne approfitta Le usa per uccidere Anna 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 Cosa combini Anna 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 Entity Trova un arco Ma Anna Lo spinge Glielo ruba E fa Un headshot 360 No scoop E uccide Pia C'è l'ha Scusami un attimo Allora aspetta 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 Mi sto immaginando la scena Allora abbiamo Un piano Entity Abbiamo Anna E Tivo Pia Qua sotto In culacristo Praticamente Qua sotto Ok Anna Sbatte contro Entity Entity fa Poff Gli ruba l'arco Prende l'arco Gira Rodea Perché è la skin bianca Rodea Spara una freccia Ma non becca Entity Becca Pia Che era per i cavoli suoi Perfetto Interessante Infine C'è Francesco Che tira un cazzotto A circa l'itero Per un Per un po' di pane E gli rompe pure il naso Tutti gli altri Scappano urlando Regà Non sono morto Non sono morto Si gode Giorno 1 Nasa prega E riceve Dell'acqua santa E riceve Una pacca Sulla spalla Da grande Chef canavacciuolo E riceve In cambio Gli scubi Snacks Per i suoi gatti Chicken Little Chiami i parenti Napoletani E Merade Riceve un bellissimo Set di asce Da Chef Tony Per accettare Le richieste Di unban Che faremo Tra poco Mamma mia Ragazzi Mamma mia Questo Questo Hunger Games Di oggi Diretto da Michael Bay Tutti gli altri Vanno in cerca Di provvista Ah Mi dimenticavo Che Rob Cerca di scappare Ma fa puff Povero Rob In lontananza Sentono 5 colpi Di cannone Kraken Feddo Hanna Aria Aria 99 E Rapinare Da oggi Pio Sarà Aria 99 Bene Notte 1 Tutto Mantoteo Litica con Entity E gnomale Tutto Mantoteo Muore Per mano Di Entity Come gnomale Naso e strada Rincontrano Maradona Prima di Adormentarsi Sulle sue Bombe Usate Come Cuscita Elena dopo La pacca Sulla spalla Di canna Vacciuolo Accusisce Le sue Skills E si Mette a Cucinare Per i Suoi Gatti Ent Cercando Di Vendicare Chico E Little Prova Ad uccidere Francesco Che gli aveva Rotto il naso Con un arco Ma manca Francesco E uccide Chico E Little Tutti gli altri Dormono Giorno Due Matti Facco spray Di Kratos Aspetta che c'ho Le luci troppo Forti Mamma mia Tutto questo qui Che ho appena fatto Ragazzi Vi ricordo che è Grazie a Elgato Ponte esclamativa Elgato in chat Per lo Stream Deck Il mio bellissimo Microfono Il nuovo Stream Deck Plus E per l'amore Di Nova Quindi Ponte esclamativo Elgato in chat Se dovete sapere Tutti i prodotti Di Elgato Matti Facco spray Di Kratos E infilo Un accetto In mezzo Agli occhi Di Entity Uccidendolo Entity Godo Godo Per chi In tutta Sta vicenda Sono Chill Piribiri Si travesta Da Lupin Terzo Eduruba Papadiego Lasciandolo solo Con le sue mutande Con le papere gialle Tutti gli altri Vanno in cerca Di provviste Si sentono in lontananza Oh 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 Attenzione Francesco diventa siciliano E fa esplodere una macchina Davanti a Silverone Strider E Buco Buco Jacopo Ok 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 Bene Incredibile E intanto godo Che Silver Strider E Buco A casa Tutti gli altri Dormono Io ragazzi Dormo dal giorno 1 Secondo me non si sono manco accorti Che sono morto Tipo Giorno 3 I piedi alti sono Incazzati con Mattia Perché non hanno voluto Uccidere Nicola Come Mattia Cioè prendi coltello E fa Sa 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 Così Tutti gli altri Vanno in cerca di provviste Si sentono in lontananza Tra i colpi di cannone Abbiamo Argento 22 Argento 22 Strider 720 Nel distretto 2 Buco Jacopo Distretto 4 Argento 22 Notte 3 Ant Trova una rivista Di spogliarelliste La prende Mattia La trappola di Piribiri E muore Ant Si è una minchia Come ci sei cascato Come hai fatto Ant a cascarci Come hai fatto A cascarci Ant Come hai fatto Papà Diego Fa una registrazione Per il sito Per il sito arancione Con Lella E Anna Come protagon Siamo passati Diretto da Michael Bay A diretto da Rocco Sifredi Qui Incredibile Cosa sta succedendo Lella Ma cosa mi combini Tutti gli altri Dormono Giorno 4 Meliodas Sconfonde la testa di Mattia Tutti Tutti gli altri Vanno in cerca Di provvista Non si fa E raga In tutto ciò Ma Emerald Dov'è Dove sono io In tutto ciò io Che fine ho fatto Dove sono finito Tra poco siamo arrivati All'Hunger Games Della prossima settimana Bella Lori Come me deve ancora venire I piani alti Si sono messi a giocare Un po' troppo A Fortnite E decide di simularlo Sul campo di Hunger Games L'occhio della tempesta Si restringe Su pinnacoli pendenti Già sta lite lana Butta Francesco Fuori safe Everard Swedish Inciampa E viene inglobato Dalla tempesta Ma perché ogni volta Muoio da solo Muoio per le mie stesse mani E per i miei stessi piedi Non ha senso C'è what the fuck Lella Papà Diego Elena E Nicola Camperano Meliodas E Piribiri Non hanno mai giocato A Fortnite Pensano che le tempeste Abbia Che la tempesta Abbia probabilità curative In lontananza Si sentono sette colpi Di cannone Ent del distretto 5 Matti Del distretto 7 NASA Del distretto 2 Francesco Dell'8 Meliodas Del distretto 7 Piribiri Del distretto 11 E Emerald Svedese Del distretto 9 Notte 4 Elena perde tutti i suoi gatti A causa della tempesta Implora a Lella Di farli ricongiungere I suoi gattini Ma Lella decide Di lasciarla soffrire Lella Sei veramente perfida Giorno 5 La cornucopia Si riempie Dopo che l'attuale edizione Di Masterchef è finita I piani alti Decidono di donare E tributi il cibo avanzato Nicola Lella e Papadiego Decidono di non Partecipare alla festa Perché sono associali Mentre Ana ed Elena Bisticciano per la pizza Con l'ananas Di Carlo Cracco Elena riesce a prendere La pizza La mangia Mera avvelenata E muore Elena Che ti devo dire Elena Allaki Come sei fidata Con la pizza All'ananas Come hai fatto a fidarti Della pizza All'ananas Elena Super Allaki Incredibile Lella tradisce Pelato Diego Perché vuole Prendere tutti i soldi Ricavati al video Fatto qualche notte fa Ma Ana scopre Il piano malefio Di Lella E la uccide Proteggendo il suo manager C'è del business Qui eh Nicola Intanto muore Inutilmente Cercando di scappare Dall'arena Vabbè Nicola Peggio di Emerald Tre colpi di cannone Elena Del distretto 12 Lella Del distretto 9 Nicola Del distretto 4 Quindi anche La mia compagna Di distretto È Moruta Ultima notte Ormai rimangono Solo più Ana E il suo manager Papa Diego Si mettono A parlare C'è una certa Atmosfera Nell'aria Papa Diego Mette una mano Della testa Di Just Little Ana Per abbracciarla Diego What the fuck Bro Bro Ma invece La prende La sbatte Ripetutamente Violentemente Contro un sasso Papa Diego Del distretto Se vince La 12esima Inizio Di Degli Emerald Hunger Games Il pelato Il pelatone Ha tradito Tutti Il pelatone Mamma mia Qua ci sta Ci sta questa Dov'è Questa canzone Qui ci sta Dov'è Io mi immagino Una scena Ralenti Ok Mentre piove E c'è Diego E prende Ana così Da dietro Si avvicina Lentamente La guarda Accarezza E poi Recerta Prende la sua Testa E la sbatte Pam Pam Così Incredibile Incredibile Ragazzi Grande Diego Top G Incredibile E quindi Ragazzi Papa Diego Ha fatto Vittorio Vittorio Pazzi Pazzi furiosi Pazzi furiosi Matti Matti Chi è stato Chi è stato Chi è stato Dov'è Non Favetta Le mie orecchie Mi idrato Mi idrato Questi qua ragazzi Sono stati I dodicesimi Hunger Games Grazie Dodicesimi Hunger Games Vi ricordo Vi ricordo Fate la sub Sul canale Twitch Anche col Prime Che è gratis Entrate nel gruppo Telegram Per partecipare ai prossimi In palio C'è la Gloria Sorella Sorella di Silver Se non sbaglio E Un vip Sul canale Twitch Il mio Bene Detto questo Grazie a tutti Per aver partecipato In ultimo Per partecipare Dovete entrare nel gruppo Telegram Link pinnedato in chat E se non siete sub Potete abbonarvi col Prime Ci vediamo martedì su gruppo Per i prossimi Hunger Games Bene Ho una sorella Ops Allora Ringraziamo ancora Silver Per il magnifico commento Grazie mille Silver Grazie mille Flega Grazie mille Per questi Bellissimi Hunger Games Grazie di cuore Grazie mille